ciao a tutti amici di matto scacco ben ritrovati come va spero tutto bene vediamo subito una nuova partita e il protagonista è sempre lui il personaggio o meglio lo scacchista più famoso del momento tutti parlano di lui molte testate giornalistiche a livello internazionale stanno dando tanto spazio al gioco degli scacchi non per parlare di sport quanto sia bello il gioco quanto sia interessante eccetera ma purtroppo il caso cheating che coinvolge Hans Nieman dopo anche questo grande report che ha fatto a chess.com chiaramente ha creato tantissima tensione intorno a lui secondo turno del campionato americano del campionato statunitense assoluto che si sta giocando in questi giorni e attenzione perché secondo turno il suo avversario con il nero Jeffrey Xiong e lo sta aspettando alla scacchiera la partita è iniziata si aspettano 5 minuti dove è Neiman dove è Neiman ok lui era impegnato nei soliti controlli anti cheating la partita inizia e 4 per il bianco quindi con il bianco il fortissimo grande maestro che ha tanto attirato l'attenzione su di lui Hans Nieman con il nero un 2690 di nome Jeffrey Xiong e 4 e 6 d4 d5 apertura francese cavallo c3 cavallo f6 e dopo e5 il cavallo ripiega in d7 si va verso una linea abbastanza forte tagliente per entrambi perché ha il vantaggio di spazio del bianco il bianco ha un fortissimo pedone in d5 sostenuto da due pedoni e con un cavallo pronto a sostenerlo in alcuni casi che poi vedremo potrebbe essere anche un'idea quella di arroccare lungo e corrisponde una certa iniziativa del nero al centro della scacchiera come cercherà il nero questa iniziativa il pedone d4 un pedone che diventa un target un obiettivo perché potrebbe essere prima o poi attaccato e questo potrebbe accelerare lo sviluppo dei pezzi neri ad esempio dopo un cambio in d4 con il pedone c l'alfiere nero troverà senz'altro una migliore coordinazione sulle case nere questa è una diagonale forte e sarà una diagonale forte soprattutto se il re del bianco si troverà ancora al centro della scacchiera la partita è tutta da giocare il bianco continua con la mossa più frequente alfiere 3 arriva quel cambio in d4 che avevo annunciato qualche mossa fa cavallo per d4 e poi donna b6 qualcuno potrebbe dire io sapevo che posizionare i cavalli al centro della scacchiera sono forti e allora io prendo di il fiere perché se tu mi dai il tuo cavallo io posiziono il mio cavallo al centro della scacchiera eppure per quanto possa essere fortissimo questo cavallo diciamo che il nero del giro di poche mosse potrebbe avere un'iniziativa veramente fastidiosa sulle case nere creando questa coordinazione elementare la tipica batteria due pezzi che insistono sullo stesso percorso in questo caso sulla diagonale quindi alfiere per d4 assolutamente da escludere cavallo per d4 in partita donna b6 mossa che si trova sulla traiettoria di questo alfiere bianco ma nel frattempo attacca anche questo pedone b2 che non è difeso da nessuno a tre sulla scacchiera mossa furba perché qualcuno dirà ok mi ha lasciato un pedone in presa forse non l'ha visto lo catturo ricordiamo che stiamo vedendo le partite tra giocatori che stanno giocando il campionato statunitense assoluto e sono giocatori di altissimo livello tuttavia per chi si chiederà come mai il nero non cattura in b2 e ve lo mostro subito dopo la cattura arriva la semplice cavallo a4 trappola la donna non ha più case la donna è rimasta in trappola circondata dai pezzi bianchi quindi dopo a3 alfiere c5 cavallo b5 mossa interessante sostengo nuovamente il pezzo in d4 e in alcuni casi minaccerò un salto in d6 che potrebbe essere fastidioso semplifichiamo tutto al centro prima semplificazione seconda semplificazione il bianco riprende arrocco corto per il nero e dopo alfiere per c5 cavallo per c5 questo è il punto di partenza del medio gioco di entrambi i giocatori tendenzialmente si entra in medio gioco e quando entrambi i re sono al sicuro e quindi questo re bianco ancora non al sicuro e quindi potremmo dire che non stiamo in medio gioco però nel giro di due mosse o comunque rapidamente questo re verrà arroccato lungo o chissà corto arroccare corto sarebbe sempre un po' pericoloso per via di questa donna che da lontano controlla la casa di arrivo del re bianco la partita continua con un piano logico della difesa francese in tutte le difese francesi che giocherete che vedrete ci sarà un momento in cui il nero cercherà questa rottura centrale quindi nella variante di spinta quando bianco posiziona un pedone in e5 questo pedone in e5 così forte che deve essere rimosso per quale motivo dovremmo rimuovere questo pedone in e5 e chiaramente in caso di cattura io potrei prendere sia di pedone bruttina o di torre abbastanza forte qual è l'idea di eliminare il pedone in e5 l'idea è attivare i pezzi sulla colonna f e come vedete se non subito perché queste mosse chiaramente non posso giocarle per via del cavallo nel momento in cui questo cavallo andrà via e la pressione su f4 potrebbe essere pericolosa facciamo attenzione anche perché il re bianco si trova ancora al centro della scacchiera e quindi quando giochiamo contro un re al centro della scacchiera sappiamo che l'apertura del centro ci porterà a ottenere qualche vantaggio quindi il nero prima o poi vorrà provare a far qualcosa del genere dopo donna d4 il nero a punta giocata f6 l'alfiere in e2 per sviluppare cattura in e5 e il nero contento e soddisfatto perché ha il controllo di una fortissima colonna f allora qui continua il suo sviluppo alfiere d7 attacco questo cavallo che era già sotto pressione dalla donna e arriva a cavallo d6 il bianco ha un fortissimo cavallo in d6 in avamposto e nero deve trovare il piano corretto perché in questo caso non c'è più la minaccia su b2 perché questa donna è abbastanza forte lì al centro della scacchiera è vero che il bianco ancora non può roccare però questo cavallo in d6 probabilmente compensa l'attività del nero sulla colonna f il nero gioca al fira 4 mossa molto interessante attacco questo pedone perché in caso di spinta ho creato un buco sul quale manovrare con i miei pezzi leggeri e dunque dopo c3 ho provocato b3 che è la mossa della partita l'alfiere va in e8 e attenzione questo alfiere adesso vuole ripiegare su un'altra diagonale la manovra di alfiere è molto tipica quando abbiamo quindi potremmo dire in assenza del pedone f proviamo a ricordare in questo modo in assenza del pedone f il mio alfiere di case bianche trova un buon gioco su questa diagonale e la sottigliezza di provocare questa spinta e ovviamente aiuta il nero nel realizzare questa questa manovra di alfiere più pedoni muove il mio avversario più quella posizione potrebbe essere e debole più potrebbe scricchiolare la partita prosegue cambio delle donne e anche il bianco porta un suo anche il nero porta un suo cavallo lì al centro del centro della scacchiera e qualcuno noterà questo pedone che non è difesso da nessuno però attenzione perché se io mangio il pedone probabilmente lo mi attacca il cavallo torna indietro e dopo i cambi giocherà torre d8 e torre per d6 da nero sono fortissimo perché ha due pedoni lì nelle colonne centrali e allora dopo cavallo e4 e quindi dopo cavallo e4 del nero il bianco decide di rimuoverlo quindi dopo cavallo e4 del nero il bianco decide di rimuoverlo esatto alfiere c4 sulla scacchiera attacco la debolezza e re h8 anche questa è una mossa furba e difficile da interpretare perché questo pedone in e6 effettivamente è un pedone in presa l'idea è cercare di accerchiare e attaccare questo pedone in e5 quindi alfiere a4 guadagni il tempo sul pedone c2 e alla prossima mi preparo a giocare torre 8 a rocco lungo giocata e tolgo il re e metto le torre in comunicazione questa è una posizione che il software valuta con un vantaggio di due punti per il bianco che è anche giustificato dalla presenza di questo pedone finché quel pedone al centro della scacchiera la posizione si può ancora spremere in questo momento il bianco che sta meglio sta affrontando questa questa posizione il bianco può ulteriormente migliorare la con questa mossa torre f6 che è abbastanza tipica io porto una torre in una casa debole una casa che non è più controllabile dei pedoni del mio avversario difesa da un pedone chiaramente da escludere il cambio perché questo pedone è veramente forte e in coordinazione con l'alfiere è abbastanza forte perché come vedete incastra il re avversario immaginiamo che per assurdo questa torre vada qui io sposto l'alfiere lui sposti la torre a quel punto ci sarà il tema del matto del corridoio ok un po di fantasia però l'idea c'è tutta in partita piuttosto che torre f6 vantaggio importante per il bianco quindi seconda vittoria molto vicina per neemann arriva al fiere g4 al fiere g4 è quella mossa che perde il vantaggio è una considerata una mossa da punto interrogativo perché questo pedone non sopravviverà all'attacco del nero è attaccato una volta viene eliminato dalla scacchiera e adesso pareggiato il numero di pedoni paradossalmente chi sta meglio direi che il nero è il nero che ha questo pedone nella metà scacchiera avversaria non è facile tuttavia non è per niente facile abbiamo gli stessi pezzi dentro la scacchiera e chiaramente non abbiamo di meglio che diciamo continuare da bianco riconosciamo ok probabilmente abbiamo sbagliato qualche occasione ho perso il controllo della posizione non abbiamo di meglio che ripetere la posizione e qui colpo di scena perché dopo torre c3 il nero non è d'accordo il nero è un pedone libero passato sostenuto da due fortissime torri allora dice ok sono al campionato statunitense quando mi ricapita di provare a vincere di fare un punto se non lo faccio quando sto meglio quando potrò farlo e allora ci prova ci prova con h5 vuole rovinare la struttura pedonale e probabilmente con la spinta in h4 il bianco non ha di meglio che ripetere la sua posizione e a questo punto il nero imposta il suo piano come vedete oscillare con questa torre sono mosse che dal punto di vista psicologico non possono dare parecchia noia perché è come se io dico al mio avversario guarda io non so che fare dimostrami che stai realmente meglio il nero ci prova e torre h8 per giocare lui stesso h4 il bianco lo blocca giocando h4 creando quella tipica struttura che nei finali è molto molto forte e molto importante come vedete abbiamo due alfieri presenti all'interno della scacchiera entrambi controllano le case chiare ma la differenza è che tanti pedoni del nero sono sul colore di quell'alfiere questo alfiere nero per quanto sia fortissimo sulla diagonale lunga è un alfiere che teoricamente è cattivo ha tanti pedoni bloccati sul proprio colore torre c8 torre d3 e a questo punto chi ci prova è nieman perché torre d6 è il momento di creare qualche problema occhio perché le torri raddoppiate sulla sesta traversa sono un pericolo arriva torre 7 torre f4 in questo caso qualora arrivasse torre f6 possiamo ancora difendere con quest'alfiere che si sposta prima in e4 e poi eventualmente ripiega in f5 e allora torre d4 per il niman per il bianco alfiere 4 ultimo tentativo per provare a vincere e il bianco raddoppia le torri perché vuole entrare sulla settima l'errolo impedisce e a questo punto arriva la ripetizione entrambi depongono le armi e al secondo turno del campionato statunitense Hans Niemann pareggia contro Jeffrey Xiong rivediamo la partita molto avvincente un'apertura francese con la variante in cui il bianco spinge nei 5 attacca il cavallo poi f4 triplice o meglio solita piramide di tre pedoni lì al centro della scacchiera con il bianco che gioca a mosse molto spontanee il bianco si prepara ad orcare lungo e un consiglio qualcosa che potrebbe essere molto utile in questa partita è questa trappola che si crea il pedone b2 è un pedone avvelenato per la trappola che abbiamo visto prima chi non ha visto questa trappola che rivede il video continua la partita alfiere c5 cavallo b5 cattura al centro arrocco corto riprende in c5 e dona d4 la donna bianca blocca tutto f6 per il nero tipica dell'apertura francese alfiere 2 catturo catturo e a questo punto alfiere d7 il cavallo era attaccato due volte e trova una casa un'occupazione facile lì in d6 la partita prosegue il nero decide di fare questa manovra di alfiere in cui prima passa una diagonale e poi cerca di spostarla sull'altra la partita continua in questo modo altro consiglio molto utile quando il mio avversario punta il mio re io ho quasi sempre sposto il mio re perché in quel percorso in quella diagonale magari come in questa partita non stava per niente bene il bianco ha un pedone in più il bianco qui ha mancato il momento vincente con torre f6 o comunque quel momento in cui mantenere il vantaggio la partita prosegue proseguita in questo modo e dopo di che il materiale è pari e chi è che prova a vincere perché qui si rifiuta la ripetizione di mosse ricordiamo che dopo tre volte che la posizione si ripete la partita si decreta in parità la partita continua appunto in questo modo torre in d6 preparando forse un'incursione sulla sesta ma dopo torre e7 il bianco ci ripensa e cambia piano la doppia delle torri vogliamo noi entrare in d7 torre f1 e a questo punto si ripete dopo la ripetizione e Hans Niemann conduce lì in prima posizione dopo soltanto due turni lì con un punto e mezzo al campionato degli Stati Uniti tantissima attenzione intorno a questo giocatore come avete visto Christian sta aggiornando quotidianamente tutti gli sviluppi della faccenda che sta facendo parlare il mondo e appuntamento al prossimo video commentate ciao a tutti